Salve a tutti amici artisti, in questo video recensiremo una mod chiamata Simple Core Api che aggiunge nuovi minerali sia nel lower world che nel nether ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con la recensione Prima di tutto la mod aggiunge 11 nuovi minerali di cui 4 sono nel lower world ed i restanti 7 sono nel nether Ma parliamo prima di quelli nel lower world Per primo abbiamo il rame, secondo alluminio, terzo mitral, quarto adamantio Bene, tutti e quattro possono essere smeltati in fornace e il mitral può essere trasformato in uno sticchetto craftandolo in modo normale Tutti e quattro i minerali possono essere craftati e diventare attrizi con le rispettive armature L'unica cosa che varia è il mitral che per l'arco ha una crafting diversa Bene, adesso passiamo a quelli del nether che sono l'onix, l'argonite, l'asstonite, la dragonstone, la fiorite, l'illuminite e la malachite Anche loro, come quelle dell' lower world, possono essere smeltati in fornace e solo l'onix che può diventare anche uno sticchetto Anche essi hanno i propri utensili ed armature ma in particolare la fiorite, la malachite e l'illuminite sia come armatura che come utensili hanno le proprie capacità La fiorite non prende danno dal fuoco La malachite salta più in alto di due blocchi e l'illuminite non dà danno da caduta Inoltre il piccone di fiorite, secondo il mio parere, è un ottimo attrezzo perché smelta i blocchi in automatico senza doverli mettere in fornace Quindi, per esempio, se prendessimo un qualunque altro piccone il minerale non si smelterebbe Anche la spada di fiorite e illuminite hanno delle capacità Quella di fiorite sfrutta la potenza del fuoco Quella di illuminite dà visione notturna e rallenta i mob Unica pecca è che per il momento è giocabile solo a partire dalla versione 1.12.2 in giù Spero che questa mod review vi sia piaciuta Scrivetevi nei commenti se volete un'altra mod review e se volete una serie incentrata sulle mod Quindi lasciate like, commentate e condividete Al prossimo video!